Oltre il 96% dei bambini toscani è stato vaccinato con l'esavalente con un incremento di oltre un punto percentuale rispetto al 2017, risultati ancora migliori per morbillo, parotite e rosolia che per la prima volta hanno superato il 95%. Sono rassicuranti i dati sulle vaccinazioni pediatriche in Toscana. Nel 2018 nella nostra regione è stata superata la soglia di sicurezza del 95% che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica come necessaria perché sia raggiunto l'effetto gregge. I dati sono stati illustrati a Firenze in occasione della presentazione del nuovo calendario vaccinale. Gli effetti della legge sull'obbligo vaccinale continuano a produrre i loro effetti. Molto positivo anche su morbillo, parotite e rosolia, cioè sul trivalente perché lì addirittura siamo cresciuti di due punti. Risultati importanti raggiunti grazie alla collaborazione con i pediatri. È stato il primo anno effettivo di messa al regime del nostro accordo regionale che unico in tutta Italia vede impegnati i pediatri di famiglia nell'esecuzione diretta delle vaccinazioni. Ci ha impegnato tantissimo ma soprattutto ci ha impegnato anche nel recupero di quelle linee adempienti. Trend positivo anche per gli altri vaccini obbligatori e consigliati. Insensibile calo invece la copertura vaccinale a 24 mesi per il meningococco C. Il nuovo calendario regionale ha confermato così la campagna straordinaria gratuita di vaccinazione fino al 30 giugno 2019 per adulti e ragazzi e tra le novità la vaccinazione gratuita fino a 25 anni di età per le donne non vaccinate contro il papilloma virus.